Sono quattro giornate previste nell'ambito del Piano Nazionale del Cinema e per la prima volta si fa la giornata del cinema a scuola. In realtà sono quattro giornate in cui operatori, esperti, professionisti si occuperanno della formazione dei docenti. È un'occasione perché il cinema entra nelle scuole attraverso questa formazione che si farà con il mondo della scuola e ci saranno anche degli ospiti e delle proiezioni molto importanti. Cominceremo domenica sera, domani sera, con Ficarra e Picone intervistati, ci racconteranno com'erano loro a scuola e ci racconteranno dell'impatto che il loro cinema ha nella scuola. E poi continueremo sempre domani sera con la proiezione di Diario di un Maestro di Vittorio De Seta, cento anni esatti dalla morte di Vittorio De Seta. Non è un caso che tutta la manifestazione si svolgerà ai cantieri culturali alla Zisa e al Cinema De Seta. Poi continueranno le attività, lunedì ci sarà l'apertura formale con la presenza delle moltissime cariche istituzionali tra cui la sottosegretaria alla cultura. E poi le sere ci saranno le proiezioni, lunedì sera ci sarà la proiezione del film di De Angelis che ha aperto il Festival del Cinema di Venezia quest'anno, credo che sia un film molto importante. Martedì sera ci sarà Claudio Bisio con la prima del suo film che è stato molto pubblicizzato in queste ultime ore, un film molto importante che parlerà della Shoah. E poi mercoledì chiuderemo, si chiuderanno queste giornate alle ore 11.30 con Matteo Garrone. Grazie a tutti.